O per volontà, diciamo, è una decisione che riguarda una comunicazione o per volontà sua o peraltro sia stato un po' lasciato da solo, no? Dai Big Big che da Zingaretti e Renzi, tanto per restare nella maggioranza ma di due partiti naturalmente diversi, negli ultimi giorni stanno spingendo anche a livello di visibilità molto di più sulla sua candidatura. È stata una scelta, è stata una strategia, è qualcosa che rischia di pagare meno, visto che invece il territorio della Toscana è stato battuto e controbattuto da settimane già in anticipo da Salvini, dalla Ceccardi. Dunque, per quanto riguarda la presenza sul territorio e quindi la conoscenza dei problemi, penso di essere io colui che, insomma, sono l'unico presidente o di consiglio regionale, il ruolo che sto esercitando, o di regione che ho visitato e affrontato i problemi in tutti e 273 comuni della Toscana. Dal più piccolo, l'isola di Capraia, dove occorre due ore e 45 in traghetto per andare, a quelli montani, a quelli delle aree interne e devo dire che poi ho trovato il supporto, che era quello che per me era importante, di un manifesto, l'abbiamo chiamato il patto di San Gimignano, in cui abbiamo precisato gli impegni verso i comuni e 286 sindaci della Toscana l'hanno firmato e mi hanno sostenuto. 186 sindaci della Toscana, preciso, su 273, quindi più del 70%. Io quello che ho sempre cercato è proprio questo rapporto con il territorio, con le nostre municipalità, con i cittadini di una Toscana diffusa, non solo quello delle città d'arte o dei centri industriali più importanti. Anche conoscendo questa impostazione, se vogliamo, fortemente autonomista della Toscana, nel senso di cercare di affrontare i problemi, risolverli in una logica che vuole essere quella del rispetto, della nostra identità e del nostro modo di essere e di fare. I maledetti toscani, direbbe Curse Malaparte. I leader nazionali sono venuti, ma sono venuti in modo giusto. Quindi in questi giorni sono molto presenti, sia Nicola Zingaretti, sia Matteo Renzi. Ieri abbiamo fatto una bellissima iniziativa con Speranza, il Ministro della Salute, c'è una lista fra le sei che mi sostengono che a lui si riferisce. Devo dire che è stato un rapporto equilibrato, come deve essere. Noi siamo in una Repubblica che Piero Calamandrei definiva di Stato regionale e conseguentemente era giusto che vi fosse quell'autonomia. È quello che mi preoccupa del centro-destra, perché Susanna Ciccardi si è mossa sempre, costantemente, insieme a Salvini e conseguentemente si ripete un po' la situazione Emilia-Romagna. Come mi diceva Bonaccini, in quei giorni della campagna elettorale Salvini è sempre presente, dopo assolutamente è sparito. E questo accadrà. E io, che è il messaggio che dico ai toscani, è diffidate dai professionisti delle campagne elettorali. Governare è un'altra cosa. Scegliete, secondo quello che è il buon governo, la conoscenza, la capacità di interpretare questo territorio e affrontare i problemi secondo un metodo che ci ha resi, insomma, una regione che è appunto di riferimento in Italia, nel mondo. E è una regione che non ha mai vissuto questo in modo, diciamo così, quasi contrapposto. No, è sempre stata gelosa di una sua autonomia, ma trascinando, immergendo di quello che sono i nostri traguardi di civiltà, di innovazione, di capacità, di governo, un po' tutto il Paese. Proprio l'attuazione è l'articolo 5 della Costituzione. La Repubblica, una indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali. Proprio per questo io chiuderò la campagna elettorale in Piazza Santissima Annunziata stasera con sindaci, con intellettuali, con figure che sono rappresentative della nostra regione. Dall'altra parte, in Piazza della Repubblica, e questo mi suona un po' strano perché Susanna Ceccardi, l'immagine di Mattarella, se l'era tolta dalla sua stanza da sindaco di Cascina, ci saranno Salvini, Meloni, Tajani. Insomma, non si può strumentalizzare un'elezione regionale facendone il campo di battaglia, un po' il test e l'elemento dei sondaggi di quello che può essere il governo o la politica nazionale. È proprio una mancanza di rispetto verso le regioni in quanto tale. E perché diciamo sempre così, ma poi alla fine sono sempre test per il governo. Allora, andiamo in pubblicità e poi...